Oggi voglio parlarti di tre casi in particolare in cui non dovresti utilizzare la sottolineatura. Non perché non sia una tecnica utile, anzi è utile ed è molto utilizzata, ma deve essere utilizzata quando realmente serve e quindi se la utilizziamo in un momento sbagliato non solo non ha senso e quindi una perdita di tempo, ma anche perdiamo la possibilità di utilizzare una tecnica più specifica che invece avremmo dovuto utilizzare. Comunque, oggi parliamo di questo nell'argomento del video di oggi, ma prima di parlarti di questo voglio ricordarti che puoi richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari. È un corso appunto gratis che puoi ricevere inserendo nome e email attraverso il link che trovi in descrizione. Proprio in questa mail riceverai tutte le varie lezioni, i contenuti sono spiegazioni teoriche, spiegazioni pratiche, contenuti scaricabili, hai delle istruzioni e tanto altro, quindi ti rimando al link che trovi proprio qui sotto. Tornando invece all'argomento del video di oggi, Vediamo anzitutto insieme la sigla e poi ti faccio capire esattamente quei tre casi in cui non dovresti assolutamente sottolineare. Vediamo quindi questi tre casi in cui non devi assolutamente sottolineare o evidenziare ciò che stai studiando. Questo non perché la tecnica sia sbagliata, ma perché non è il momento corretto e l'utilizzo quindi corretto di questa tecnica. O comunque il momento giusto per applicarla. Partiamo subito con il primo di questi tre casi. Non hai ancora letto il materiale. È facilissimo andare ad individuare studenti e studentesse che utilizzano questa strategia in modo sbagliato, soprattutto cadono in questo primo caso, in questo primo errore. Perché spesso troviamo delle pagine, come quella che ti propongo qui sotto, completamente sottolineata. Perché sottolineare o evidenziare la stessa cosa sono delle tecniche che sono utilissime quando dobbiamo selezionare le informazioni importanti. Se non ho ancora letto il materiale almeno una volta senza sottolineare, come faccio a capire quali sono le informazioni importanti? Perché posso leggere un rigo, magari sì, sembra un'informazione importante, però magari alla luce di tutto quello che viene sotto, quindi quello che leggerò successivamente, quello che prima pensavo fosse importante, in realtà non è così rilevante. Quindi potevo anche non sottolinearlo. Quello è l'errore che nel dubbio che quell'informazione sia importante, intanto la sottolineo, poi in caso ci torno dopo. Quindi ecco l'errore. Fai una prima lettura delle informazioni. Alla seconda lettura cominci a sottolineare o evidenziare perché avrai già un'idea più chiara delle informazioni più e meno rilevanti, quindi sottolineerai solo quelle che ti servono davvero. Primo errore, molto semplice, evitalo perché vanifica l'efficacia di questa tecnica. Secondo caso, quindi secondo errore, hai già creato schemi in mappe e torni a sottolineare. Questo è un errore grossolano che può capitare, spesso quando abbiamo l'ansia di gestire le informazioni non sappiamo come fare, quindi abbiamo bisogno di fare qualcosa, di studiare in qualche modo e quindi torniamo su tecniche che conosciamo già, ma ormai quando abbiamo creato schemi in mappe è troppo tardi. Perché ti dico questo? Perché partiamo dal primo step, leggiamo il libro e anche comprendiamo le informazioni, giustissimo. riporti le informazioni più importanti all'interno di uno schema, di una mappa o anche più schemi in mappe. E va benissimo, qui non c'è niente di sbagliato. Il problema arriva quando a questo puoi fai seguire il sottolineare le informazioni più importanti. Non ha senso, perché come fai a creare un schema fatto bene se non hai già, prima di tutto, capito quali sono le informazioni importanti. Quindi non ha senso prima riportarle nello schema e poi capire quale sono. Proprio si capisce che c'è una dissonanza proprio nel ragionamento, nella sequenza logica, nella linearità dell'applicazione delle tecniche. Quindi cosa dovresti fare? Leggi il libro, poi sottolinei le informazioni più importanti, le scegli e poi quelle informazioni importanti che hai scelto le riporti nello schema e nelle mappe. Quindi invertendo la seconda e la terza fase in questo metodo a tre step, hai risolto il problema che si presenta in questo secondo caso. E vedrai che saranno migliori sia gli schema che le mappe, ma anche la comprensione e la memorizzazione delle informazioni. Passiamo al terzo e ultimo caso, non ultimo perché è meno importante, ma anzi si ripete spesso e volentieri. Quindi, come vedi, è legato al primo caso, quindi non devi sottolineare quando hai già evidenziato o sottolineato. Perché cosa succede? Partiamo dalla lettura del libro, un po' come abbiamo visto nel secondo caso. Sottolinei le informazioni più importanti. Poi magari hai qualche dubbio, perché magari ti rendi conto che ci sono altre informazioni nel testo, magari meno rilevanti, ma appunto nel dubbio le sottolinei comunque. Ecco, arriviamo anche al terzo step. Alla fine, cosa avrai davanti? Un testo in cui sono sottolineate le informazioni importanti e le informazioni non importanti. Se l'utilità di questa tecnica è selezionare solo quelle importanti, l'ultimo step è superfluo. Serve solo a farti stare un po' più tranquillo o tranquilla in termini di sforzo fatto per studiare, ma non ti aiuta realmente. Anzi, avrai una pagina tutta sottolineata, magari con più colori, o magari con un evidenziatore matita, o un evidenziatore di colori di penne e quant'altro, ma in realtà l'efficacità della tecnica sarà svanita, sarà vanificata. Quindi accontentati a sottolineare o evidenziare una volta sola. Perdi più tempo nel scegliere le informazioni che sono davvero importanti. Questo ti permetterà di non avere dubbi e quindi non cadere in questo terzo errore, quindi l'errore di questo terzo caso. Questi erano i tre casi che volevo proporti per farti capire quando non devi sottolineare e non devi evidenziare. Se comunque dovessi incontrare difficoltà o dovessi avere dubbi o problemi, non farti, appunto, problemi a scrivermi nella sezione dei commenti o attraverso i contatti che trovi in descrizione. Sempre lì c'è il link per richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari. E io ti aspetto con moltissimo piacere nel video che uscirà domani.